Il dibattito politico italiano è tornato a concentrarsi su una teoria del complotto nota in Italia come teoria della sostituzione etnica, dopo una dichiarazione del 18 aprile del Ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida. Non possiamo arrenderci all'idea della sostituzione etnica. Non sappiamo quanto il Ministro conosca nel dettaglio questa teoria, né se ci creda, ma l'espressione ha una storia precisa. Di che cosa si tratta? I teorici di questa cospirazione immaginano l'esistenza di un piano ordito da una presunta elite globalista, che coinvolgerebbe in alcuni casi anche ebrei ai vertici di istituzione, media e alta finanza. Questa cerchia di oscuri personaggi avrebbe deciso di sostituire le popolazioni dei paesi occidentali con migranti di diverse etnie, con l'obiettivo di un genocidio della razza bianca. I primi tentativi di teorizzare questo pensiero risalgono al 1900, quando lo scrittore francese Maurice Barré parlò di una nuova popolazione che avrebbe preso il sopravvento e rovinato la nostra patria. Dopo anni passati nell'orbita delle formazioni neonaziste, la teoria della sostituzione etnica è entrata nel mainstream e le sue parole chiave hanno iniziato a diffondersi in modo incontrollato. Tra il 2018 e il 2022 sono state ben quattro le stragi avvenute nel mondo, giustificate anche con la paura della sostituzione etnica. Per imparare a difenderti dalla disinformazione, segui Facta News.